Dottor Ranieri, come nasce la sua candidatura? La candidatura è venuta da una scelta fatta da una coalizione importante. Vengo praticamente dal mondo civile, non ho mai fatto politica fino a questo momento. Mi affaccio a questa esperienza nuova ed importante perché probabilmente il mio paese ha necessità di avere in questo momento una svolta, quindi un nuovo percorso. La sua sarà una coalizione di centro, vedo NCD. La nostra coalizione, vero è che ha una partecipazione di NCD, ma come abbiamo modo di vedere è supportata da altre tre liste civiche. Non abbiamo una precisa identificazione politica, anche se la lista di NCD e Alleanza Area Popolare ha voluto in questo momento sostenirci nel progetto. Fondamentalmente ci riteniamo un pochettino tutti quanti provenienti da esperienza civica e quindi ecco la predominanza delle tre liste civiche. I punti essenziali del suo programma invece? Noi a Terzegna abbiamo un problema grossissimo l'ambiente, il secondo problema notevole è il lavoro, il terzo problema notevole perché purtroppo i problemi che esistono in questo paese sono tutti notevoli, è quello legato all'immigrazione che purtroppo genera una serie infinita di problematiche e ci vogliamo anche dedicare al ritorno nel nostro paese di quelle che sono le antiche tradizioni della nostra città che riteniamo possa per certi aspetti generare sintomi di curiosità culturale e ovviamente dovrà dare un ritorno anche in termini di lavoro. Senatore, per chi sostiene Ranieri? Io sostengo Ranieri in primis perché il partito che io rappresento decide di sostenere il candidato Domenico Ranieri alla candidatura a sindaco a Terzegno. Il piacere vero è che una coalizione fatta un po' etereologicamente, politicamente parlando, decide di mettere una persona della società civile, è una persona alla prima esperienza in quella che è la politica, però di uno spessore indeso come professionista e come uomo proprio per cercare di dare una svolta a quella che è la politica. Che le persone dovrebbero votare Domenico Ranieri? Primis per quello che rappresenta come uomo, come professionista e come cittadino di Terzegno, almeno a mio giudizio, senza offesa agli altri candidati. Ma il motivo valido, primario, che debbano votare Domenico Ranieri è quello che lui è un professionista, è una persona culturalmente degna di rappresentare Terzegno, è una persona capace, come ha dimostrato durante la sua storia personale, ma in più è stato capace di mettere insieme liste, persone, dove c'è stata sempre una conflittura della politica, unendolo su un soggetto che è quello lì poi del bene comune di Terzegno.